ciao a tutti ragazzi benvenuti in un nuovo video cosa andiamo a vedere oggi altri prodotti l'opiporo quel negozio di torino che fa forniture militari di cui vi lascio in descrizione tutti i contatti ma oggi andiamo a fare l'unboxing di un mega pacco che mi hanno mandato che è veramente veramente bello allora io ho già dato una sbirciata prima ad essere sincero e ci sono dei prodotti veramente belli allora partiamo dall'inizio un visore notturno della all optics bellissimo veramente comodo e funziona piccolo ma funziona molto bene è qualcosa già provato perché erano troppo sfiziosi alcune cose qua invece abbiamo un altro sempre nell'ambito edc un altro prodotto della true utility ed è un accessorietto 20 in uno da portarsi dietro sempre è bellissimo bellissimo poi una fondina della fobus il modello br2 quindi per beretta 92f è carinissima molto comoda vedrete anche questo un bel video perché l'ho provata prima è veramente carina questo che a me piace tantissimo ed è un piccolo kit un piccolo kit survivor con all'interno un tutto il kit da pesca piocciarino più altre robe bellissimo bellissimo mi emoziona solo a parlarne questa invece ci ho messo un attimo a capire cos'era ma l'ho trovata molto bella è una borraccia che sembra strano ma in grado di fare il caffè quindi se siete in giro e nelle vostre scampagnate quelle più lunghe o nell'outdoor chiaramente però fa anche il caffè sembra strano ma fa anche il caffè anche il tè chiaramente vedrete poi come funziona molto bella molto bella poi oh qua 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 abbiamo una chicca sempre in ambito everyday carry un kit ah mi è caduto ok un kit composto da tactical pen acciarino con un tot di funzioni e queste poi se volete vederle le vedete nel video e più in più un kit scusate un contenitore a tenuta stagna quindi completamente impermeabile quindi ogni ah comunque di questi qua di ogni video ogni accessorio chiaramente ci sarà il proprio video quindi seguitemi perché gli andiamo a vedere tutti bene bene il dettaglio qua abbiamo un bellissimo paio di mechanics original il modello insulate che per la stagione invernale sono fantastici sono veramente un bel paio di guanti veramente veramente belli e basta andiamo a vedere l'ultimo che è l'ultimo ma non per importanza un bellissimo paio di SWOT HTG della Crispy chiaramente gli SWOT sono i più famosi della Crispy sono stupendi e sono gli SWOT che li ho visti prima sono molto belli poi andremo a vederli meglio bene il video finisce qua questa è solo un'anticipazione di tutto quello che andremo a vedere e sono molto molto carini io vi ringrazio di avermi seguito se avete domande fatele un like ben accetto chiaramente se vi iscrivete al canale volentieri vedremo tutto quanto e vi lascio in descrizione tutti i contatti del negozio chiaramente bene ragazzi il video finisce qua grazie e alla prossima